Buongiorno telespettatori di Telequattro, benvenuti all'anticipo del telegiornale delle 13 eventi che quest'oggi vede accanto a me Linda Simeone delle vie delle foto perché a partire da dopodomani inizia la, e non è uno scherzo, la dodicesima edizione appunto di questa manifestazione che si è fermata durante la pandemia, però è tornata e diciamo pian piano sta anche riguadagnando quello che, adesso è inutile nascondersi dietro un dito, immediatamente post pandemia c'è stato i problemi che tutti quanti hanno avuto, però insomma pian piano vi state riprendendo. Che cos'è la via, le vie delle foto? Sì, le vie delle foto è una mostra fotografica collettiva che appunto si svolge dal primo al 30 aprile ormai da 12 anni. Ah proprio è la data? Sì sì, è il nostro periodo, è il nostro periodo aprile, la primavera, le persone hanno voglia di togliersi il giubbotto, di uscire, di andare in giro per la nostra meravigliosa città e noi gli diamo come dire un motivo in più per farlo. Ecco, ed appunto Trieste diventa una grandissima mostra a cielo aperto perché è una mostra diffusa, questa è una composta da 40 differenti locali per 62 fotografi perché appunto abbiamo una collettiva proprio di 22 artisti ed è così una grandissima festa, una grandissima passeggiata per il centro città in 40 diverse location, in 40 diversi locali, bar, abbiamo due alberghi, abbiamo pochissimi ristoranti, insomma però diventa un momento per tutti, un momento proprio per gioire di queste mostre, per mettere, per i nostri fotografi, per mettersi in mostra e per raccontare le loro storie. Sono 40 temi diversi, 40 storie di vita completamente diversi. Ah ecco volevo, hai anticipato una domanda che avrei fatto, ma le atteniamo un attimo per dopo, no, per sottolineare anche che diciamo così l'ipotetico percorso lungo il quale si svolge le vie delle foto parte diciamo dalle rive, arriva fino in stazione, così dalle rive alla stazione, poi si allunga fino al viale, insomma una grandissima T, come dire. Quella più distante sarebbe, più distante, sì, se ha senso, sarebbe tipo via Francesco, via San, via 20, ah no, via le 20 settembre in realtà. Sì, infatti via le 20 settembre, sì, la più lontana, comunque raccoglie tutto quello che è il centro città, non facciamo fare grosse salite, grosse discese, nonostante comunque la nostra città le presenta, anche per poter rendere gradibile, cioè proprio gradevole questo bellissimo giro delle vie delle foto nei nostri locali. Ecco, prima lo dicevi tu, io poi ti ho interrotta, non c'è un tema? No, no, non c'è un tema e questa cosa un po' è la forza delle vie delle foto, perché diamo la possibilità a tutti di portare un tema che sta a tutti a cuore, ognuno ha la sua, insomma, storia da raccontare, come ho detto prima, magari ha il suo messaggio da lanciare. Ogni fotografo ha oltretutto anche il suo modo di esprimersi, quindi ci sono tecniche diverse, ci sono modi di rappresentarsi diversi, insomma veramente abbiamo, diamo spazio libero a quella che la creatività, ma soprattutto la passione fotografica espressa in tutte le sue forme sicuramente. Allora, come viene effettuato l'abbinamento fotografo locale? Sì, è la cosa un po' più particolare e anche un po' più difficile nel senso, perché il tema generalmente deve essere abbinato a quello che è anche un po' il tema del locale, poi dopo Trieste ha un sacco di spunti diversi, per esempio magari un tema veneziano sta in un locale più a tema, ecco, gli abbinamenti sono proprio fatti in base a quello che è il tema del portfoglio e il tema del locale. Poi dopo una piccola cosa, ci aggiungo sempre, perché comunque è un esperimento quasi dire antropologico, le vie delle foto, bisogna tener conto di tutto, anche di quello che è il carattere del fotografo con il carattere del proprietario del locale, perché c'è qualcuno che ama mettersi in mostra, fare cacciara, fare confusione, invece c'è quello un po' più timido, che è in punta di piedi, cerca di raccontare la sua mostra e magari lo fa in un locale altrettanto timido, senza andare a cozzare un po' quello che è il carattere di entrambi. Vedo che tra i tanti locali che sono coinvolti c'è anche il bar Ulpiano di via Cicerone, il bar Ulpiano che quest'anno credo festeggi 50 anni di attività, io lo ricordo per un motivo molto semplice, perché frequentando il Dante era il bar un po' di riferimento e lì ho bevuto un'importantissima Coca-Cola prima del mio esame di maturità, quindi ricorderò sempre quella Coca-Cola di quel sabato 16 luglio del 1983. Detto ciò, chi espone? Sono fotografi professionisti? Sì, allora sono fotografi sia professionisti ma che anche fotografi amatoriali, però la cosa bella è che sono fotografi che vengono da tutto il mondo, questo noi abbiamo un fotografo russo, abbiamo un fotografo greco, abbiamo un fotografo austriaco, insomma finalmente dopo il Covid siamo riusciti a riprendere un po' quello che era il nostro abitudine, prima e appunto prima del fattaccio del Covid avevamo fotografi che partecipavano da ogni parte veramente, in più erano veramente anche ancora di più, ma io sono assolutamente sicura che questa è soltanto di nuovo l'onda crescente che riprenderà nei prossimi, insomma nel futuro. Quante foto possono, dipende molto immagino anche dalle dimensioni del locale, da altre cose, però c'è un minimo e un massimo eventualmente? Sì, sì, sono minimo 6, massimo 50, perché dopo non abbiamo locali così grandi, insomma già 50 è difficile, ecco. Misure? Dimensioni? Eh, quelle che decidono il fotografo, sì, lo standard è il 30x45, insomma per poter rendere una foto gradevole e anche visibile, la misura insomma è di base quella. Diciamo che c'è una sorta di standard, ecco anche su magari termini. Ma dopo di che accettiamo anche fotografie più grandi, benvengo però ecco l'importante. Quella è il, come dicono quelli che parlano bene o credono di parlare bene, quello è il range. Il range. Allora, ah poi c'è anche il podcast, cos'è questa storia? Io qua già comincio a perdere. No, 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 infatti pensa che c'è stata un po' di difficoltà nel realizzarlo perché qualcuno mi ha detto, ma senti ma che cos'è questo podcast, che cos'è che devo fare? Il podcast è appunto la registrazione, sono delle puntate che si trovano per esempio sui principali. Questo è su Spotify. Ecco, su Spotify, se voi andate su Spotify e cercate le vie delle foto, trovate tutte quante le puntate di quest'anno, sono 40 e ogni puntata ha il suo fotografo che si racconta in maniera che se voi andate all'interno di un locale, trovate la mostra che vi interessa e volete saperne di più, andate su Spotify, però potete andare anche per esempio, non Amazon, su tutti quanti i servizi che praticamente offrono la musica gratuita e potete ascoltare appunto la storia del fotografo delle vie delle foto. Io intanto l'ho… Hai cercato, sì. Sì, perché fino a Spotify di nuovo, ecco insomma. Ci arriviamo. Quindi praticamente ogni artista, ogni fotografo si è raccontato e quindi… È una cosa in più, insomma, per poter toccare proprio con mano quello che è il tema, no? Perché alla fine qualcuno potrebbe aver bisogno di magari qualche informazione in più, magari si appassiona, ma chissà chi è questo fotografo, vorrei sapere un po' di più di lui. E il podcast è il modo forse più naturale per potersi raccontare, per poter raccogliere quelle che sono le informazioni complete della mostra, perché poi in ogni mostra c'è una piccola tabellina di descrizione, però insomma non potranno mai essere paragonabili a dieci minuti di podcast, poi sentire come il fotografo racconta la sua mostra, che emozioni ci mette, qual è il pathos che usa, insomma ecco. E poi vedo anche che ogni sabato c'è un tour guidato, li fate tutti, no? Sì, sì, però non tutti lo stesso giorno. Ah, ho capito. Eh no, perché sono troppi. Allora, se è sabato mattina che è sabato pomeriggio abbiamo i tour con la guida turistica specializzata che porta in giro le persone, i turisti curiosi e che racconta quelle che sono le storie delle foto, ma non solo, parla anche della nostra bellissima città, perché insomma viene fino a Trieste e per vedere la mostra parleremo anche di quelle che sono per esempio, non so, i palazzi storici e poi dopo racconta anche le storie dei locali, perché Trieste veramente è ricca, ricca di storia, ma non solo, l'ha appassionato veramente e appassiona tuttora veramente tante persone, insomma che hanno e hanno e hanno avuto tantissime storie da raccontare. Poi mi raccontavi anche che tra le iniziative di quest'anno c'è anche una sorta di, come si può dirlo, di apprezzamento, mettiamolo così, di come funziona. Allora, tra le novità di quest'anno, e questo secondo me è una novità bomba, abbiamo accompagnato una start-up, un gruppo di ragazzi che stanno facendo una certificazione tramite il meccanismo del blockchain per certificare le opere d'arte ed è una cosa unica e prima, che viene fatta per la prima volta, dove il fotografo ha la possibilità di inserire su internet le informazioni della sua fotografia, mandarle in un grandissimo contenitore e dall'altra parte del mondo questo contenitore viene presa l'informazione e viene certificata da un curatore da qualsiasi altra parte del mondo che poi dice ok, va bene, l'opera è tua, questo qui è il certificato di garanzia e ti viene restituito un pdf con un QR code che può essere applicato dietro l'opera. È una cosa che è emersa perché serviva proprio ai fotografi, insomma, rispondeva un po' a quella che era l'esigenza, che rispondeva alla domanda di dire ma senti Linda, questa foto come faccio a dire che l'ho fatta io, come faccio a certificare che è l'unica stampa che ho fatto? Noi avevamo in maniera primordiale, prima creato un adesivo da appiccicare dietro la foto adesso con la tecnologia moderna e sarà possibile oltretutto anche avere un vero e proprio elenco certificato di tutte quelle che sono le opere e che si trovano certificate appunto tramite questo meccanismo. Una sorta, non so, per farla semplice semplice come un registro ISBN? Più o meno, quello dei libri. Ah, ecco, non sapevo cos'era. Allora, tra i, vedo ancora, c'è anche Italy che partecipa, anche il bar Vecchia Università, sono legato anche al bar Vecchia Università perché mi ricordo di quando frequentavo l'università, anche se in realtà il bar Vecchia Università è spostato rispetto, però si parla di quasi 40 anni fa, insomma non posso pretendere che le cose siano rimane, il grande concentramento comprensibilmente sta tra via San Nicolò, via Mazzini etc. Questa è una manifestazione che si rivolge certamente al turista, però non necessariamente, vedo che molto spesso i triestini anche si accodano, mettiamola così, alle iniziative per i turisti perché, insomma, è segno che tutti quanti noi vogliamo scoprire sempre, vogliamo, no scoprire, conoscere sempre meglio la nostra città. Sì, ma allora guarda, una cosa bellissima che porto, insomma, come memoria di questi 12 anni è che i primi anni venivano i fotografi stessi a partecipare, ma tutt'ora lo fanno e venivano da me dicendomi, lo sai che ho fatto oggi su Trieste e per la prima volta ho scoperto cose della mia città stessa che io non sapevo ed è stata una cosa interessantissima perché è dare la possibilità al triestino stesso di capire, di scoprire queste cose in più della città che vive, della città che ama ed è un momento quasi, non so, in più ed è un momento così, non so, secondo me prezioso, ecco, perché poter scoprire le proprie caratteristiche, i propri tesori è veramente un momento così importante, in più dopo si fa il giro delle vie delle foto, si parla con i fotografi, ci si confronta, ecco, forse una delle caratteristiche principali delle vie delle foto è la possibilità di confrontarsi in maniera serena, spero puntuale con gli altri fotografi perché sono a disposizione, perché vogliono parlare con te, perché vogliono parlare con anche il triestino, insomma con il turista, ma con l'appassionato, vogliono parlare con chi ha la voglia di essere lì e dire ok, va bene, raccontami, parlami della tua mostra, presentami il tuo progetto ed è questo quello che fa un po' secondo me la differenza con le altre cose. Quanto tempo ci abbiamo verso la conclusione? Abbiamo ancora veramente pochi secondi, quanto prepari, quanto incominci, quanto prima incominci a lavorarci? Eh beh, sono 6-8 mesi prima, eh sì, le vie delle foto è un grandissimo elefante organizzativo, nel senso, comunque organizzare una mostra da sola, di solito ci vuole un mese, non ho 40 mesi a disposizione, però sì effettivamente è un lavoro importante perché bisogna comunicare, bisogna preparare le grafiche, bisogna gli abbinamenti. Allora, grazie a Linda e Simone per essere stata con noi, buon lavoro, non solo per la via delle foto, ma insomma per tutto quanto, ricordatevi dal primo al 30 aprile, 12esima edizione delle vie delle foto, adesso noi andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13.20. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Si è snodata ieri lungo il colle di San Giusto, la via Crucis del Venerdì Santo, ad ogni stazione una riflessione sulla pace e sulle guerre in corso. Domani Tele4 trasmetterà in diretta la Santa Messa Pasquale preseduta dal Vescovo Trevisi. La via Crucis snodata ieri sera fra via Capitolina e il colle di San Giusto, come aveva anticipato il Vescovo Trevisi, è stata contrassegnata da una serie di riflessioni sulla pace e scoperta sui conflitti che insanguinano il mondo. Una via Crucis seguita in prima fila dal sindaco di piazza e in diretta da Tele4, ma anche dalle persone affacciate alle finestre e dai balconi. Molti giovani, i bambini e gli scout. Ognuna delle stazioni ha dato spazio ad una storia, ad una testimonianza. Iraq, Afghanistan, Iran, Ucraina, Africa, guerre civili, bombardamenti, una mamma col figlio al fronte, un medico impegnato a Gaza, un ragazzo fuggito dalla Somalia, una famiglia assediata in Siria, un 22enne spedito sul fronte ucraino per uccidere. La via Crucis si è conclusa in cattedrale, il canto Abbracciamoci ha preceduto la benedizione finale. Sempre in diretta, domani Tele4 trasmetterà la Santa Messa di Pasqua, a partire dalle 10.30, presieduta dal Vescovo Trevisi, il quale poi alle 18 presiedierà anche i Vespri. Lunedì il Vescovo celebrerà la Messa al Coroneo, alle 10 nella sezione maschile, alle 11 in quella femminile. Incendia tre mezzi di proprietà di una ditta ed ide, ma le indagini dei carabinieri lo individuano e lo denunciano. È successo nei giorni scorsi a un cittadino kosovaro 32enne con precedenti di polizia, titolare di una piccola impresa ed ide domiciliato a Mestre. L'incendio risale al 26 ottobre scorso, quando poco dopo la mezzanotte è stato appiccato a tre mezzi parcheggiati nella zona industriale del comune di Sgonico. Giunti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno impedito il propagarsi dei rogo ad altri mezzi. Da una prima ricostruzione si è appurato che l'incendio era sicuramente doloso. Le indagini dei carabinieri, del nucleo operativo e radiomobile di Aurisina e della stazione di Prosecco, coordinate dalla Procura di Trieste con l'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno permesso di raccogliere prove a carico del 32enne. Stop agli allagamenti in centro e sulle rive, questo è l'obiettivo dell'intervento di pulizia dei torrenti e di miglioramento del drenaggio avviato dalla regione con 12 milioni di euro di stanziamento. Con un piano da 12 milioni di euro la regione è pronta a mettere in sicurezza la rete di drenaggio urbano di Trieste, mettendo così fine a molti degli allagamenti che si sono moltiplicati negli ultimi anni nel centro cittadino. Ieri la giunta regionale ha approvato una delibera che rende operativa la spesa dei fondi a favore dei lavori che si articolano in diversi interventi sui torrenti che attraversano la città, in particolare il Chiave e il Farneto. I torrenti che scorrono nel sottosuolo di Trieste quando è stata costruita la grande città dell'Ottocento hanno bisogno di manutenzioni perché è da più di un secolo che non vengono fatte. Quindi noi interveniamo su un fenomeno che poi genera la coalta soprattutto nel centro di Trieste. Quindi questo fenomeno sarà di molto mitigato, auguro anche che scompaia e quindi oltre 3 milioni gestenziati ad oggi, altri 12 milioni che entreranno nel torrente Chiave e nel torrente Farneto. Obiettivo del piano è limitare dunque i fenomeni di allagamento attraverso l'asportazione dei sedimenti nel tratto terminale del torrente Chiave, la limitazione del trasporto solido del torrente Farneto e il miglioramento della rete di drenaggio urbano. Ma gli effetti non si avranno solo sulle rive e riguarderanno anche le vicinanze del parco del Farneto in aree oggi non accessibili. Quindi andremo a pulire sia a monte che a valle nello sbocco a Portovecchio di questi torrenti che creano anche un tappo da cui anche il motivo è contributo per l'acqua alta. Detto questo nella parte alta del Farneto vicino all'omonimo parco gli interventi saranno così importanti che un'area importante intorno al parco stesso del Farneto verrà resa urufuibile per la prima volta al pubblico per percorsi che possono essere pedonali piuttosto che ciclo pedonali. Il Faro della Vittoria ha riaperto ai turisti questa mattina, già si erano formate le prime file di visitatori italiani e stranieri in attesa di godersi la vista mozzafiato. Riapertura del Faro della Vittoria già preso d'assalto dai primi turisti sia italiani che stranieri che vengono a godersi un bellissimo paesaggio. Antonio avete riaperto e insomma si riparte? Si riparte sì, siamo felici di questa riapertura di nuovo e ci auguriamo che anche quest'anno sia un meraviglioso anno per il Faro della Vittoria e anche per Trieste. Riaperto al pubblico il Faro della Vittoria, prime file di turisti alle 10 di questa mattina in attesa dello spalancarsi dei cancelli, poi la visita guidata salendo i 60 metri del Faro per godersi un panorama mozzafiato. Intanto si sale 15 persone alla volta, la visita dura un quarto d'ora tra il salire, il bel vedere e il scendere. Negli arco degli anni abbiamo visto sicuramente un aumento di visitatori per nostra fortuna e siamo felici di questo. Qual è la tipologia di visitatore che arriva più spesso? Da che zona d'Italia e poi anche dall'estero? Allora diciamo che per la maggior parte sono della Lombardia e per l'estero sono austriaci tedeschi. Il Faro sarà visitabile da oggi fino al 4 novembre in determinati giorni orari, per informazioni si può visitare il sito farodellavittoria.it. Da un certo punto di vista in questo momento il Faro sarà aperto solo venerdì pomeriggio e sabato 10-13, 15-19, domenica stessa cosa. Poi cambia luglio-agosto che semplicemente sarà sempre 10-13 e 16-19. Apertura dal mercoledì alla domenica. Le domande per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di asili nido e di servizi integrativi o sperimentali per la prima infanzia dedicati ai bambini dai 3 mesi ai 36 mesi potranno essere presentate a partire da domani e dentro il 31 maggio 2024, lo annuncia l'assessore regionale all'istruzione famiglia Alessia Rosorelli. La domanda per l'anno educativo 2024-2025 deve essere inviata dal genitore al comune territorialmente competente in modalità online. Gli importi del beneficio mensile in forma alla regione sono per i nuclei familiari con un unico figlio minore fino a un massimo di 250 euro per la frequenza a tempo pieno e fino a 125 euro per la frequenza a tempo parziale. Per i nuclei familiari con due o più figli minori fino a 450 euro per la frequenza a tempo pieno e fino a 225 euro per la frequenza a tempo parziale. Il beneficio è ridotto del 50% se il genitore richiedente componente il nucleo familiare sia residente o lavori nel territorio regionale da meno di 5 anni continuativi. Nel dibattito sulla futura collocazione dell'Ursus dopo la sua messa a terra per le riparazioni è intervenuto a Telequattro l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi che per lo storico Pontone Gru vede un futuro legato al Museo del Mare e a Portovecchio. Quella che potrebbe essere la valorizzazione dell'Ursus certamente a fini turistici anche perché è una grande realtà di archeologia industriale sono legati a quello che noi andremo a fare con il Museo del Mare nel magazzino 26. Un futuro strettamente legato al Museo del Mare e vera e propria icona del Portovecchio rinato a nuova vita. E questo è il contributo di Giorgio Rossi al dibattito sul destino dell'enorme storico Pontone Galleggiante per il quale l'assessore alla cultura non ritiene adatte le collocazioni ipotizzate di Piazza Libertà dove c'è ormai un altro progetto e del piazzale del Centro Congressi dove impatterebbe sul nuovo sistema viario dello scalo. Quindi io credo che non vada messo in questi due posti un elemento che sta nell'acqua e per quale motivo dobbiamo metterla. Quindi credo che deve stare in mare dove? Decisamente vicino al magazzino 26 al Museo del Mare. Quindi io la vedo nel bacino zero deve essere collocata in uno degli angoli del bacino per disturbare il meno possibile quelli che sono anche gli attracchi di altri mezzi di navigazione e ancorata o posizionata in maniera tale che si crei una specie di bacino all'interno del bacino che contenga l'ursus. Quindi è una doppia sfida perché uno è quella di restaurarlo, adesso è stato messo fuori acqua perché avrà delle riparazioni sia le carene a tutto quanto e dopo ad esempio la realizzazione certamente di un ascensore perché arrivare a 70 metri va bene in quella zona vedi tutta la città, vedi il golfo, vedi il calcio ma perché no anche nella parte superiore è un elemento inferiore in cui puoi saldare e ganciare di tutto e di più e anche una piccola zona, un ristorante, pensate un ristorante a altezza di 50 metri, questo credo che sia il destino dell'ursus ma bisogna farlo, certamente 3 milioni e mezzo che dovrebbe essere a disposizione sono una parte non dico minima ma molto complementare dell'operazione, oggi dobbiamo veramente realizzare un faro, non è il faro della vittoria, un faro marittimo va bene sotto e che illumini, vedere questo bellissimo monumento di un'altezza imponente illuminato in maniera propria dà significato, il Porto Vecchio sarà oggetto di grandi sfide, non solo quelle pubbliche ma anche quelle private, però ha bisogno di un'icona, ha bisogno di qualcosa che lo rappresenti. Allora parliamo di domani, parliamo di Pasqua perché tutti quanti ci prepariamo chi in un modo, chi in un altro a celebrarla, chi rimane a casa, chi invece si reca, se può, in ristoranti eccetera, vediamo un piccolo sondaggio realizzato su come i triestini trascorreranno la Pasqua di domani. Buongiorno, signore buongiorno, ma lei mi dirà cosa farà a Pasqua quest'anno? Non so, vado con i fiori. Ah beh dai, bello, già questo è bello, in famiglia? In famiglia, sì. Va bene. E cosa si mangerà? Non so. Sorpresa? Sorpresa. Buongiorno caro. Come cosa si mangia a Pasqua? Ho preso una puttizia e il resto ho già tutto predisposto perché vado al ristorante quindi non ho problemi di cosa fare. Un buon dolce ci sta sempre. Sì, quello c'è sempre, non manca mai. Qui c'è qualcuno che molto volentieri se li mangia. Tutto pronto per la Pasqua e anche gli ultimi colpi lavorativi dai. Sì, sì, si lavora oggi tutto il giorno e domani e domani e lunedì facciamo festa. Come festeggia lei la Pasqua? Festeggiamo in famiglia. Pasqua quest'anno si festeggia, ma si festeggia come? In serenità e con la preoccupazione delle cose che stanno succedendo nel mondo. A casa? In famiglia? Certo. E cosa mangiate? Pranzo tradizionale oppure si inventa anche un po'? Tradizionale? Se vuole posso già dire le cose. Un po' di menù, dai, un rapido menù, quale potrebbe essere? Pasticcio, poi frittata con gli asparagi. Quindi se anche gli ovi che va bene? Va benissimo. Rollata, chiesta, prenotata. Una fettina crudo del carso, 35 mesi e passa la paura. Mamma mia, mi fermerei qua. E quindi lei... Sennò una gelatina. Ragazzi, è il momento giusto, eh? Tutto e di più, insomma, c'è tanta scelta per questa cosa. A Sama Torza, che abbiamo robe serie, chiaro. Signora, buongiorno, cosa ha preso per Pasqua? Cosa abbiamo preso? Le uova. Le uova, giustamente. E come si festeggia quest'anno Pasqua? A casa, in famiglia? A casa. Chiedo anche a suo marito, immagino, buongiorno, una Pasqua in famiglia, in serenità, dimenticandosi magari delle cose più brutte che succedono nel mondo. Sì, poi divento nonno, quindi sono contento, sono contento. Quindi allora tanti auguri anche per questo, oltre che di buona Pasqua. Anche a voi, buona Pasqua, auguri. Mi dia una curiosità, lei come festeggerà Pasqua invece? Ah, mi diverto, come un matto, eh? Sì, eh? Lavorando, insomma. Eh, bravo, ho capito. Allora, domani e anche dopodomani chi trascorrerà Pasqua e Pasquetta in famiglia romperà le uova di cioccolato. Chi non ha animali potrebbe essere portato a darne un po' ai cani dei padroni di casa o, eventualmente, degli ospiti, sbagliando, giacché il cioccolato ai cani soprattutto non fa bene. L'ogica della cioccolata, pur essendo buona, deliziosa e che si dà anche ai bambini, invece è estremamente tossica per i nostri animali. E se i gatti, tutti, tutti. I gatti sono un po' meno propensi a mangiare le cose dolci per quanto qualche pezzettino di pandoro lo vanno alla chimera, ma non rubano la cioccolata abitualmente. I cani, invece, sì. I cani sono proprio tonti, la cioccolata è dolce e loro se la mangiano. Quello lanciato dalla dottoressa Fulvia Adarossi, veterinaria, non è un allarme per certi aspetti, neppure un avvertimento, già che i proprietari di animali di ciò sono a conoscenza. Chi non ne possiede può non sapere della pericolosità della cioccolata e magari a Pasqua, fra un uovo e l'altro, inavvertitamente darne un po' ad un cane più che ad un gatto. La cioccolata è contenuta una sostanza tossica, che è la teobromina, e a seconda del tipo di cioccolata e della quantità di cioccolata che è stata ingerita dall'animale, si può tranquillizzare il proprietario o si devono intraprendere delle manovre, alle volte anche estremamente... Tipo lavanda gastrica. Tipo lavanda gastrica. La cioccolata bianca è meno pericolosa, quella fondente più nociva. Ovviamente il discorso riguarda anche la quantità ingerita e la taglia dell'animale. Per un cane di 5 kg, per cui cagnolino veramente piccolo, i miei bassotti ne pesano 8 per dare un'idea, la dose letale, che vuol dire che volente o nolente il veterinario non può far nulla, di cioccolato al latte, per cui se andiamo a vedere il cioccolato fondente è ancora più bassa e 250 grammi. La sala operativa della Polizia Locale, buongiorno a chi è in linea con noi. Buongiorno Ispettore Capo Luisa Mastracchio, buongiorno a lei e i teori ispettatori. Allora, cosa ci racconta oggi per quanto concerne traffico e viabilità? Traffico più che altro pedonale ce n'è tanto, nel senso i colleghi della mattinata del turno smontante mi riferiscono, ci sono stati pochi incidenti, pochi problemi di viabilità per quanto riguarda i veicoli, però veramente vediamo anche dalle telecamere tanti pedoni presenti, turismo e altro, anche con cittadini che vanno a fare ultimi acquisti prima della Pasqua. Dunque, posso ricordare, è importante, che pomeriggio ci sono gli sgomberi per la nave da crociera e attualmente la situazione è un po' tragica, nel senso ci sono ancora parecchi veicoli in sosta sulle rive, quindi sollecito, ricordo chi eventualmente avesse il veicolo in zona di andare a controllare la posizione dello stesso. Poi ancora, oggi ci sarà l'incontro di Palacanestro che inizierà alle 20.30 con apertura degli ingressi dalle ore 19, però in via dei Macelli sono stati posizionati dei divieti di sosta, quindi anche là i divieti di sosta dalle 13.30 fino alle 23 di questa sera, quindi attenzione anche là ai residenti magari in zona. Un'ultima cosa che ricordo, c'è una processione questa sera che interessa alla zona di Opicina, alle 21 una parrocchia che ha organizzato la processione pasquale della risurrezione. La processione partirà dalla chiesa di San Bartolomeo Apostolo con percorrenza poi della via degli Alpini fino alla cappella di Santa Croce di via di Prosecco con poi rientro lungo il medesimo tragitto sino alla chiesa. Ecco queste diciamo le notizie per oggi altre cose non avrei da segnalare, colgo l'occasione intanto per fare gli auguri a lei e ai telespettatori e alla redazione e le restituirei la linea. Grazie, auguri anche a voi, buona giornata e buon lavoro. Chiudiamo allora con lo sguardo al meteo, vediamo per quanto concerne la situazione generale sul Friuli Venezia Giulia, fruiranno correnti umide provenienti da sud che raggiungeranno la massima intensità al passaggio di un fronte freddo fra domani e lunedì. Le previsioni per domani, cielo da nuvoloso a coperto, nella notte al mattino le precipitazioni interesseranno principalmente la zona montana con quota neve a 2000 metri circa, dalle ore centrali precipitazioni sparse intermittenti anche a carattere di rovescio temporalesco ma con la possibilità di schiarite abbondanti sulla zona montana ma intense su alpi e prealpi carniche, da moderata ad abbondanti sulla pianura, da deboli ad assenti sulla costa, soffierà vento sostenuto in quota da sud. Per lunedì fino al pomeriggio da nuvoloso a coperto con precipitazioni intense più diffuse sulla zona montana, più sparse intermittenti altrove saranno in genere abbondanti sulla pianura, da deboli a moderate sulla costa, quota neve a 2000 metri circa ma in calo in serata. Dal pomeriggio sera rovescio temporali sparsi ma con anche la possibilità di schiarite a partire da ovest. Sulla costa soffierà scirocco con raffiche anche sostenute e vento da sud con possibili raffiche forti in quota. Ci vediamo questa sera alle 19.30, intanto io vi faccio gli auguri da parte mia di trascorrere una buona Pasqua e una buona Pasquetta. Buon pomeriggio e più tardi.